Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui vi mostro un tweak di Cydia chiamato VideoPane. Questo tweak è davvero secondo me il miglior tweak mai uscito su Cydia perché ci permette di fare una cosa che io volevo fare veramente da secoli con il mio iPod, iPhone o iPad. Infatti ci permette di ridurre a icona un video, non so se avete visto l'aggiornamento dell'applicazione YouTube che è arrivata alla versione 2.0 in cui si possono rimpicciolire i video e guardarli mentre si fa un'altra ricerca. Bene, questa applicazione fa più o meno la stessa cosa come concetto però intanto supporta non solo YouTube ma proprio supporta ogni video che viene riprodotto sul nostro dispositivo. Quindi non lo so, un video del rullino foto, un video dell'applicazione video, di applicazioni esterne come Dropbox eccetera, insomma il supporto a tutte le applicazioni di App Store e in più il video può essere visto anche mentre siamo sulla Springboard. Ma vi porto subito una prova pratica, quindi proverò la prima volta con un video di YouTube, quindi andiamo ecco qua sui miei video, ho aperto il mio ultimo video, compare questa finestra e se noi clicchiamo su Detach, guardate, appare il video in miniatura piccolino e come vedete viene riprodotto. Ora, anche se noi torniamo alla home, come vedete il video continua a scorrere in modo molto fluido, possiamo spostarlo in ogni parte sul nostro dispositivo e noi intanto possiamo aprire altre applicazioni, andare su internet, scrivere qualcosa sulle note, insomma tutto e di più. Ora ho aperto l'applicazione Meteo, come vedete il dispositivo non si rallenta neanche poi più di tanto, ora provo ad aprire ProMemoria, come vedete è un po' più lento del solito però nemmeno tanto considerando che è un iPod Touch di quarta generazione. Qui abbiamo i controlli, possiamo mettere pausa, play oppure mettere il video a schermo intero, premendo su fine non verrà interrotto il video, bensì verrà ridotto di nuova icona e poi con l'icona X lo chiudiamo. Ora facciamo un'altra prova con un video che ho del rullino fotografico che ho scaricato da Vine, mettiamo play, detach e guardate compare il quadratino del video in miniatura e come prima possiamo guardarlo mentre facciamo altre cose con il nostro dispositivo. Andando nelle impostazioni di VideoPane troviamo alcune impostazioni piuttosto inutili ma nella voce Enabled Application troveremo tutte le applicazioni compatibili. Ovviamente quando scaricheremo nuove applicazioni da App Store entreranno nella lista compatibile, si integreranno perfettamente. VideoPane è scaricabile da Cydia, dalla ripo di Big Boss al prezzo di 1,99$ ed è dello sviluppatore Ryan Petrich che è praticamente il più famoso sviluppatore di Twix di Cydia. Quindi detto questo io spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile, come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di seguirmi su Twitter e su Facebook. Un saluto, ciao a tutti! Un saluto, ciao a tutti!